Dopo quello di Tortoreto è entrato pienamente in funzione il depuratore di Alba Adriatica. Nei giorni scorsi tre squadre di tecnici della Ruzzo Reti hanno lavorato per collegare la parte residuale dei reflui di Villa Rosa e quelli di tutto il territorio di Alba Adriatica al nuovo impianto di depurazione della società acquedottistica Teramana. L'impianto, uno tra i più grandi e moderni da Abruzzo, oltre al territorio di Alba Adriatica, serve i comuni di Colonnella, Martinsicuro, Corropoli e parte di Tortoreto. Il depuratore è costato circa 10 milioni di euro, una capacità depurativa di circa 90.000 abitanti equivalenti. È dotato di tre linee di trattamento, acque, reflu e fanghi attivi. È di ben sette vasche ed è destinato a ricevere progressivamente tutti i reflui provenienti dai principali centri della Val Vibrata con la graduale dismissione degli impianti di depurazione di piccola e media taglia. Abbiamo partito anche il nuovo depuratore di Alba Adriatica, un depuratore super tecnologico di ultimissima generazione che consentirà l'acqua di ovare, quello di Tortoreto che già era in funzione da circa un anno. Siamo molto soddisfatti, un lavoro eccezionale fatto da tutti i nostri tecnici. Abbiamo dismesso quindi il vecchio impianto, coste sempre più pulite e mari sempre più performanti. Ricordiamo che purtroppo prima sulla costa si presentava spesso il problema della mancanza di acqua. Allora, prima qualche anno fa, perché già dall'anno scorso, un paio di anni, il problema è stato risolto. Sicuramente è un'estate molto calda, è un'estate particolare, i consumi sono lievitati, anzi in questo vorrei fare un appello alla popolazione a cercare veramente di non abusare dell'utilizzo dell'acqua potabile per atti impropri, come ad esempio lavare autovetture, annaffiare giardini, perché la situazione è comunque sul limite. Noi la stiamo gestendo, riusciamo a gestirla con una serie di investimenti che abbiamo fatto e che stanno dando i loro frutti, però bisogna prestare massima attenzione da parte di tutti.